Lily Karati, la triste storia di una rosa sopravvissuta all'inverno. Ci sono rose che sopravvivono agli inverni, che non appassiscono nonostante facciano tutto affinché ciò accada. Che hanno superato il male che si sono autoinflitte. Come Lily Karati, bellissima attrice rimasta tale anche con lo sfiorire della giovinezza, e, soprattutto, nonostante tutto il male che ha inflitto al proprio corpo. Sopraffatta dallo star system, nel quale si trovò catapultata suo malgrado in giovanissima età. Finì prima per abusare degli psicofarmaci, per poi passare alle droghe pesanti. Ripercorriamo la storia di Lily Karati. Da miss italiana a simbolo delle commedie sexy. Lily Karati, pseudonimo di Ileana Caravati, nacque a Varese il 23 settembre 1956. Originaria di una famiglia di commercianti, dopo aver fatto il liceo in un istituto di suore, iniziò la sua carriera nella moda, frequentando prima una scuola per indossatrici a Milano, sebbene lei non si vedesse adatta per quel lavoro, ritenendo di non avere i canoni tipici della modella, bionda, slanciata, occhi azzurri. Lei che invece aveva dei bellissimi tratti mediterranei. Entrò nel mondo dello spettacolo partecipando all'edizione di Miss Italia del 1974, esperienza che definì in una intervista allucinante, e dalla quale voleva scappare. Ma fu di fatto obbligata a restare. Fatto sta che Lily arrivò in finale, che si tenne a Vibo Valencia, in Calabria, posizionandosi seconda, vincendo però il titolo di Miss Eleganza. Quella esperienza le aprì le porte del cinema, fu infatti scritturata dal produttore Franco Cristaldi, che faceva parte della giuria, per la sua vides cinematografica, esordisce così nel cinema con il suo primo film, Di che segno sei? Del 1975, di Sergio Corbucci, in cui recitò a fianco di due mostri sacri come Adriano Celentano e Mariangela Melato. Tuttavia, legò il suo nome soprattutto al genere commedia sexy, molto in voga in Italia negli anni settanta. La pellicola che più la rappresenta è Avere vent'anni, del 1978, diretta da Fernando Di Leo, di cui è protagonista insieme ad un'altra attrice simbolo di quel genere, Gloria Guida. Altro film più rappresentativo è Il corpo della ragassa, di Pasquale e Festa Campanile, uscito nel 1979, tratto dall'omonimo romanzo del grande giornalista Gianni Brera. Qui la carati recita al fianco di Enrico Maria Salerno e Renzo Montagnani. Il corpo della ragassa ebbe anche un discreto successo di pubblico, ma fu quasi stroncato dalla critica. La bella Lilli fu nuovamente diretta da Festa Campanile l'anno seguente, nella commedia di successo qua alla mano, ritrovando anche Adriano Celentano. L'abuso di droghe L'ascesa cinematografica, però, è affiancata dall'inizio dell'abuso di droghe. Come la carati ammetterà nel documentario Lilli Carati, una vita da eroina, iniziò prima a fare uso ed abuso di psicofarmaci, al fine di mantenere i ritmi professionali, ma poi entrò nel giro della cocaina. In quello dell'eroina ci entrò quasi per caso, una sera gli fecero sniffare eroina anziché cocaina e da lì non ne riuscì più a fare a meno. Mentre iniziò con le punture quando una sera della vigilia di Ferragosto si ritrovò a Roma col suo compagno di abusi con poca droga a disposizione. E lui gli propose di iniettarsela nelle vene anziché sniffarla, perché così avrebbe avuto maggiore effetto nonostante lo scarso quantitativo disponibile. Da quel momento in poi divenne una incallita eroina umane. Nel 1981 fece una controversa apparizione nel programma televisivo di Rai 1 Tg Luna, dove si presentava il film C'è un fantasma nel mio letto, regia di Claudio De Molinis, in evidente stato di alterazione. I presenti nello studio, ironizzando sul suo arrivo in ritardo nello studio, fecero battute a doppio senso, del tipo ha bucato una ruota, ecc. In quel periodo lavorò anche per numerosi servizi fotografici su testate erotiche come Playman e Albo Blitz. Nel giugno 1981, però, ebbe un drammatico incidente d'auto nei pressi di Arona, in provincia di Novara, che la costrinse ad un lungo periodo di inattività. Tornò sulle scene nel 1984, con una piccola parte nella commedia Magic Moment. Mentre tra il 1985 e il 1986 interpretò quattro film erotici per la regia di Joe D'Amato. Il genere commedia sexy era ormai tramontato. Mentre nuove attrici irrompevano sulla scena, infatti, per il film La monaca nel peccato, sempre di Joe D'Amato, gli fu preferita Eva Grimaldi. Il declino Anche per comprarsi la droga, passò al cinema a luci rosse. In queste pellicole figurava anche un rock così freddi agli esordi. Sbarcò pure Oltreoceno, diretta da Alex De Renzi e Henry Passhard. In quel periodo prosegue in parallelo anche la carriera di fotomodella, sebbene per riviste softcore e hardcore. Malgrado la bellezza reggesse all'abuso di droghe, a risentirne fu comunque la carriera professionale. Nel maggio del 1988 fu arrestata a Mesenzana per detenzione di 4 grammi di eroina, ma al terzo giorno di incarcerazione tentò il suicidio tagliandosi le vene dei polsi. Un gesto che spinse le autorità competenti a concedergli la libertà provvisoria. Alcuni amici la convinsero finalmente a farsi aiutare in una clinica neurologica dell'Università di Genova alla fine di luglio dello stesso anno. Purtroppo però, dopo poche ore decise di scappare. Fu trovata dagli agenti della squadra mobile in un vicolo di Savona nell'atto di drogarsi. Fu consegnata ai genitori in provincia di Varese, purtroppo anche la permanenza a casa dei genitori non le conferì un po' di pace interiore. Qui infatti mise in atto un secondo tentativo di suicidio nel 1989, quando si lanciò dalla finestra della camera da letto, in preda a una forte depressione per il fallimento dei suoi tentativi di disintossicarsi. Si fratturò tre vertebre, ma quell'incidente la salvò. Infatti, l'immobilità le diede la possibilità di riconciliarsi con se stessa e con il mondo. Decise nuovamente di farsi aiutare, questa volta presso la comunità San Man, trascorse un anno e mezzo nella sede di Lenzi, in Sicilia, poi seguì un programma semiresidenziale in Puglia ed infine si trasferì in una delle case dell'Associazione in provincia di Novara. Tuttavia, durante il percorso di riabilitazione nella comunità, nel gennaio del 1993, venne condannata per i fatti del 1988 a cinque mesi di reclusione con l'accusa di concorso in detenzione di stupefacenti. La morte A partire dagli anni 90 fu ospite di programmi televisivi e protagonista di documentari che ne raccontarono la triste storia. Si pensi al succitato documentario Lily, una vita da eroina, realizzato dalla regista televisiva Ronida o Paulos quando l'attrice risiedeva nella Saman. Qui sono mostrate anche scene di lei nella comunità e delle attività che Ivy svolgeva per riprendere il contatto con gli altri. Il documentario fu mostrato anche nel programma Storie vere, in onda su Rai 3, nella puntata del 25 febbraio 1994. Si rivide in televisione molti anni dopo, tra il 2008 e il 2009, ospite del programma Ricominciare condotto da Alda Deusannio su Rai 2, nella puntata del 9 luglio. E nel programma Stracult, due mesi dopo, intervistata da Marco Giusti. Ed ancora, la si vide alla vita in diretta, Italia allo specchio e Crispy News. In quelle apparizioni, si vede una Lille Karati ancora molto bella, nonostante tutto quanto aveva passato, il 2011 avrebbe dovuto segnare il ritorno al cinema, dopo ben 24 anni dall'ultima apparizione, nel film thriller di Luigi Pastore e La fiaba di Dorian. Dunque, un genere più impegnato rispetto agli ultimi lavori che ne mettevano in risalto solo il fisico. Tuttavia, il destino gli negò il definitivo rilancio, gli venne infatti diagnosticato un tumore al cervello. Male che la costrinse a sottoporsi a molti interventi chirurgici, che stavano peraltro portando anche esito positivo. O, almeno, sembrava. Lille Karati morì in una struttura sanitaria di Besano il 21 ottobre 2014, all'età di 58 anni. Le sue ceneri riposano accanto al padre nel cimitero di Induno Olona, sempre in provincia di Varese, da dove proveniva. Il materiale girato da Lille Karati per il film di Pastore non è andato comunque perso, infatti, è stato riutilizzato da quest'ultimo per la sequenza iniziale del film del 2015 Violent Shit, Temovie, dedicato alla memoria di un'attrice che, come tante, non arresse al successo. Indotta a sbagliare anche da molti che in lei vedevano solo un oggetto del desiderio da sfruttare il più possibile, senza alcun rispetto per il suo essere innanzitutto donna. E tu, conoscevi la storia di Lille Karati? Ricordi qualche suo film? Lascia un commento e un like e iscriviti al canale. Grazie.